L'altro argomento di cui volevo parlarvi, che è poco poco studiato, però sta emergendo, è l'importanza della mente nella salute. Di nuovo, vedete che gli orientali sapevano già, mille e rotti anni fa, che il nutrimento della mente era importantissimo. La mente non deve essere inattiva, altrimenti diventerà come un albero morto e cenere fredda. La scuola medica selenitana, che era la più famosa scuola medica in tutta l'Europa, nel Medioevo, diceva che per mantenersi sani tra le varie cose bisogna scacciare le grave preoccupazioni, non abbandonarsi all'ira e di mantenere una mente lieta e serena. Al giorno d'oggi abbiamo scoperto, con degli studi bellissimi, che ogni volta che impariamo qualcosa, qualsiasi cosa, vediamo un'immagine, ascoltiamo della musica, facciamo qualcosa, quello che succede è che nel nostro cervello si formano delle sinapsi, cioè i neuroni hanno delle terminazioni, si formano delle nuove sinapsi che vanno, sono quelle dove si forma la memoria. Cioè perché noi ci ricordiamo qualcosa? Perché si formano queste sinapsi, queste reti sinaptiche, che bloccano quello che abbiamo imparato in memoria. Per quello ci ricordiamo le cose, perché si formano queste sinapsi in risposta a quello che abbiamo imparato, visto, fatto. E quello che stiamo scoprendo è che fondamentalmente il cervello come un muscolo, se non lo alleniamo, se non continuiamo ad allenarlo, si atrofizza, perdiamo queste spine sinaptiche e diventiamo dementi. queste spine dendritiche sinaptiche che si formano, che riarrangiano il cervello e formano questa memoria. Quindi il messaggio è, che sta sempre più andando forte, che non dobbiamo impegrirci. Anche le persone anziane non devono stare davanti alla televisione, devono imparare a suonare un nuovo strumento, non diventeranno Morzat, non se ne frega niente, ma soltanto mettersi lì e sforzarsi di coordinare. Quando suoniamo il pianoforte, uno deve, la stimolazione è tattile, la stimolazione è uditiva, visiva, motore delle gambe. Capisce che lavoro pazzesco questo fa sulla stimolazione di queste formazioni, di queste sinapsi, imparare a danzare, a fare yoga, la pittura, la scultura. Queste qua sono tutte riviste importantissime su Science, che dimostrano fondamentalmente che una parte dell'effetto del declino cognitivo è legata al fatto che le persone smettono, gli anziani smettono di imparare. Dicono, ma no, io sono un anziano, figurate se mi metto a imparare una nuova cosa, si fa da giovane queste cose. No, gli studi fanno vedere che anche nelle persone anziane con iniziale demenza, fare delle nuove cose, imparare delle nuove cose, rallenta in maniera significativa il declino cognitivo. L'altra cosa di cui voglio parlarvi è il sonno, che è veramente interessante questa cosa qui, che sta emergendo negli ultimi anni. Voi sapete che quando ci addormentiamo, cioè quando siamo svegli, sapete che i neuroni comunicano attraverso neurotrasmettitori chimici e attraverso il segnale elettrico. Per quello facciamo l'elettroencefalogramma, no? Cioè questo va a vedere l'attività elettrica dei nostri neuroni che sparano dei potenziali elettrici. Da svegli abbiamo un'attività elettrica, vedete, una frequenza molto alta. Quando ci addormentiamo passiamo nella fase 1, fase 2, fase 3 e 4 del sonno e vedete che man mano che andiamo in profondità le onde diventano lente e lunghe, come le onde del mare lente e lunghe. Poi questa qua è la fase REM in cui invece sogniamo e vedete praticamente che l'attività elettrica torna a essere simile allo stato di veglia. Durante la notte noi abbiamo all'incirca 5-6 cicli di questi. Ogni 90 minuti ripartiamo da qui, dal fase 1 e cicliamo per 5-6 volte. Man mano che invecchiamo purtroppo passiamo sempre meno tempo in questa fase del sonno. Il nostro sonno è sempre più superficiale, sempre più frammentato. E quello che abbiamo scoperto è che quando siamo in questa fase profonda, in fase 3 o 4 del sonno, il cervello ripulisce, si ripulisce dalle sostanze tossiche, si attivano dei sistemi di riduzione dell'infiammazione e la cosa affascinante è che nella fase profonda del sonno noi consolidiamo quello che abbiamo imparato durante la giornata. Cioè durante la giornata quello che abbiamo imparato viene messo nell'ipocampo, nella memoria RAM, quella transitoria. Soltanto se dormiamo in fase profonda viene trasportata nell'hard disk e depositata in maniera solida. Se dormiamo male, leggero e non profondo, quello che abbiamo imparato durante la giornata, la maggior parte se ne va. Viene perso. Questi qua sono degli studi che sta facendo il direttore, non solo lui, ma il direttore del Dipartimento di Neurologia della Washington University, che è veramente un luminare nel campo della demenza. E quello che ha visto nei topolini, che i topolini che dormono male, non dormono in fase profonda, hanno più rischio di demenza. Perché durante la notte, quando non dormono bene, i neuroni continuano a sparare e depositano amiloide, beta-amiloide nel cervello. Quindi dormire profondamente è importantissimo. Del resto, lo sapete, c'è una malattia, se una persona non dorme, c'è una malattia rara, una persona non dorme per nove mesi, muore. Ci sono degli interventi che stiamo studiando, sembrerebbe che l'attività fisica, gli esercizi cognitivi di stimolazione e la meditazione aumentino la durata che dormiamo in fase profonda. Tutte queste cose qui aumentano la qualità del sonno. Altro argomento di cui volevo parlarvi velocemente è il discorso della mindfulness. Mindfulness è un concetto del buddismo zen. Questo che è uno dei massimi guru di zen, buddista, dice che la mindfulness è il risveglio della coscienza nella realtà del presente, il miracolo attraverso cui in un istante si richiama la propria mente dispersa e la si ripristina nella sua interezza in modo da vivere ogni singolo attimo della propria vita. Dice, ma cosa ci interessa a noi? Con gli esercizi di mindfulness si fanno due cose. Una è di focalizzare l'attenzione al presente senza far lavorare il cervello al passato o in futuro con preoccupazioni e via dicendo. E l'altra è di essere, di non esprimere giudizi, di osservare quello che succede dentro noi o fuori di noi, quindi mindful or mindful. Si è visto che anche nei bambini, infatti in America iniziano a farlo a scuola, mio figlio lo fanno fare un'ora la settimana a scuola, di mindfulness, si è visto negli esperimenti pilota che praticamente aumenta, questo esercizi di mindfulness aumenta la socialità, riduce tecnicamente egoistici e aggressivi e favorisce l'espressione naturale della bontà. A Harvard c'è un istituto di mindfulness in cui trattano l'ansia, attacchi di panico, agorofobia, depressione, insonnia e bulimia nervosa con questi esercizi di mindfulness. Fondamentalmente sono dei esercizi che ci insegnano a concentrarsi sul presente, potrebbe essere concentrarsi sulla respirazione, osservare come respiriamo, concentrarsi su quello che mangiamo. Spesso e volentieri noi mangiamo, non gustiamo più niente, invece quello che ci insegnano è di prendere una fragola, guardarla, appoggiarla alle labbra, morderla e sentire il sapore che provoca nelle diverse parti delle lingue, osservare quello che succede dentro di noi quando facciamo le cose. Invece sempre di più, secondo noi, è parte del malessere di cui parlava il sindaco prima, il malessere che pur essendo una società opulenta c'è questo malessere sociale, personale, perché probabilmente abbiamo smesso di osservare, di godere delle piccole cose essendo attenti, cioè gustare una tazza di tè, sentire il sapore del rosmarino rispetto alla salvia, gustarsi un amico mentre parla o una camminata, guardare le nuvole che passano. Chi lo fa ormai il giorno d'oggi? C'è gente davanti a Facebook e non è più capace di essere, di vivere nel presente. Tutti noi, per l'amor di Dio, me congreso. Però dobbiamo invece fare attenzione a questa cosa e cercare di cambiarlo, questo atteggiamento. E si è visto che le persone che fanno meditazione in maniera sostenuta hanno una capacità migliore di introspezione, più consapevolezza di sé, autocontrollo, gestione delle emozioni che riflettono un'ottimale integrazione dei processi autonomi, affettivi e cognitivi. Cioè praticamente hanno una migliore intelligenza emotiva e intuitiva. Cosa significa questo? Una migliore intelligenza intuitiva? Significa praticamente che noi siamo delle persone che viviamo, viaggiamo nel mondo e dovremmo osservare con attenzione e curiosità tutte le cose, le persone che incontriamo sul nostro cammino e accumulare nel nostro cervello tutte queste esperienze, questi colori, questi sapori, queste cose che poi al momento giusto ci permettono di essere creativi. Cosa è che differenzia un artista da una persona normale? Che ha questi colpi di intuitività, di genio, che riesce a prendere tutte queste emozioni, tutti questi colori, sapori, profumi che si sono depositi nel cervello di una mente sana e poi riesce a portarli in superficie quando gli serve con un colpo di genio. Steve Jobs, che tutti conoscete chi è, giusto? È il fondatore di Apple, diceva che la creatività è semplicemente collegare le cose. Quando chiede alle persone creative come hanno creato qualcosa, di solito si sentono un po' in colpa perché non sanno spiegare, hanno semplicemente visto qualcosa. Diventa normale per loro dopo un po' perché sono capaci di connettere le esperienze maturate e con queste sintetizzare nuove cose. Le persone che hanno avuto poche esperienze non hanno abbastanza punti da connettere e finiscono pertanto col produrre soluzioni molto lineari e banali perché prive di una prospettiva ampia. Maggiore sarà la nostra consapevolezza e comprensione dell'esperienza umana, migliore sarà il risultato. E questo lo diceva anche Albert Einstein che fondamentalmente le sue intuizioni, quello che ha scoperto la relatività è stata un'intuizione, non è stato un approccio logico. Quindi so se mi seguite dove voglio portarvi, che la mindfulness, via dicendo, sono fondamentali, il dormire bene, sono fondamentali anche per il nostro successo lavorativo, personale, perché ci arricchiamo di delle cose che sono e che poi ci servono al momento giusto per fare quel salto quantico che ci permette di fare una cosa creativa, unica, di essere unici su questa terra. Velocemente, altro concetto che stiamo studiando è l'importanza delle relazioni sociali, della famiglia, degli amici, sono importantissimi. Sappiamo per esempio che le persone isolate hanno una più alta mortalità, questo è un science, negli uomini e nelle donne a cui muore il marito e la moglie, nell'uomo raddoppia la mortalità nel primo mese, nelle donne triplica la mortalità nel primo mese dopo la morte del marito. Le persone immerse in una ricca rete di sociali di amici e parenti sono più sane e danno una più bassa mortalità di quelle socialmente isolate e sembrerebbe che ci sia un miglioramento della risposta immunitaria e del rischio, ad esempio, di infezioni nelle persone che sono più socialmente connesse. Che vi dicevo poi erano queste qua dei centenari, centenari normalmente in queste comunità vivono in delle comunità in cui appunto nipote, pronipote, nonno, bisnonna, e vivono tutti assieme, si supportano, si vogliono bene, si aiutano. Velocemente, sto qua non ne parlo neanche, il fumo fa male, punto e basta. Ormai non c'è più nessun dubbio. A volte mi sento dire ma sai io fumo perché non ingrasso. È vero, ci sono degli studi fatti benissimo che la nicotina a livello ipotalamico inibisce l'appetito. Ma se siete delle persone mindful, non barattate tre o quattro chili con la certezza di sviluppare un tumore, una broncopremotiva cronico-ostruttiva o un infarto del miocardio. Fate l'attività fisica, fate qualcos'altro, non vi uccidete per tre o quattro chili, no? È un discorso di mindfulness, di nuovo, di essere attenti. Ah, dimenticavo, il fumo passivo fa male tanto quanto il fumativo. Quindi, se dovete farvi del male, fatevelo da solo, ma non fumate vicino alle altre persone, specialmente ai bambini. Qui ci vorrebbero un altro paio d'ore, sole, vitamina D per la prevenzione dell'osteoporosi, l'importanza dello sale iodato per la prevenzione delle tiriopatie. Qui abbiamo un sacco di dentisti, l'importanza dell'igiene orale regolare per la prevenzione delle gengivite e dell'infiammazione sistemica causata dalle gengivite che tutti sottovalutano, ma avere dei gengivite e dei denti col tartaro causa infiammazione sistemica. Quindi, andate dal dentista regolarmente e fatevi pulire i denti. E poi l'inquinamento, non ho tempo di parlarne, soprattutto di come il nostro stile di vita aumenta l'inquinamento. Ci sono sempre più studi che fanno vedere, ad esempio, che il 30% delle polvere sottile che ci sono in pianura padana sono legate all'allevamento intensivo. Cioè le mucche fanno le cacche e la pipì si trasformano in ammoniaca, l'ammoniaca diventa polvere sottile e il 30% dell'inquinamento per la padana è legato al fatto che mangiamo troppo carne. Io potrei finire qua, perché diciamo che qui finisce la scienza. Fino qui ci sono delle evidenze scientifiche, da qui in poi entriamo in qualcosa che non è scientifico. Volete che finiamo e facciamo un po' di domande o continuo ancora un pochettino? Ditemi voi. Siete stanchi? Come dicevo, qui finisce la scienza. Qui entriamo nel filosofico, nel non scientifico. Fino qui abbiamo parlato di cibo, esercizio fisico, training cognitivo, mindfulness e tante altre cose per promuovere la salute della longevità. Ma a che fine? Cioè uno potrebbe dirmi, ma guarda, la vita è breve, a me mi piace ubriacarmi, bere, mangiare, drogarmi, cavolo e frega, poi tanto devi morire, stai lì a... Infatti uno si può chiedere, ma a che fine? Che fine ha tutto questo? Qual è il significato della vita? Chi siamo? Dove andiamo? Da dove veniamo? Cosa c'è dopo la morte? Siamo semplicemente degli animali un pochettino più evoluti, che sono nati solamente per trasmettere i propri geni ai propri figli, in totale balia degli eventi, delle emozioni, delle pulsioni istintive? Siamo questo, come esseri umani? Socrate, che tutti sapete, non vi dico chi è Socrate, diceva che una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Diceva che per conoscere noi stessi dobbiamo capire chi siamo veramente, quali sono i nostri limiti, le nostre potenzialità, questo è l'unico modo per realizzare il nostro io più profondo e per entrare in armonia con la natura e le leggi che regolano l'universo. Non lo diceva solo Socrate, dicevano anche Spinoza e tanti altri. Einstein diceva che ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi su un albero passerà tutta la sua vita a pensare che è stupido. Il Tao Te Ching, per chi lo conosce, è il testo, la Bibbia del Taoismo. Lao Tse diceva che chi possiede molte cose materiali è considerato un benestante, ma solo colui che conosce se stesso, ed è tutt'uno con l'universo, è veramente ricco e autosufficiente. Forza di volontà nell'applicarsi allo scopo significa carattere, ma solo la serenità della mente e la tranquillità dello spirito ci permetteranno di vivere una vita lunga e felice. Queste sono riflessioni per me e per voi. Il problema è che noi quello che vediamo è un'illusione. Cioè vedete, ad esempio, questa qua è un'illusione legata al fatto che i raggi nell'aria si comportano in maniera diversa che nell'acqua e quindi praticamente vediamo il bastone piegato, ma è solo un'illusione ottica. Come tante altre cose che vediamo sono illusioni ottiche. Se vivi in una società musulmana la verginità è un valore per cui si può anche ammazzare qualcuno. In altre civiltà la verginità deve essere eliminata il primo possibile perché è un peso. Quindi sono tutte nostre illusioni, condizionamenti culturali che distorcono la nostra visione della realtà. Giusto? E una visione falsa della realtà e di se stessi è una delle maggiori cause di sofferenza, inquietudine e di malessere che condiziona pesantemente la vita quotidiana delle persone. Per poter ampliare la nostra consapevolezza abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di osservare noi stessi e il mondo. E dobbiamo cominciare a guardare dove noi vogliamo, non dove gli altri, le convenzioni, i luoghi comuni, intellettuali, le abitudini, le superstizioni, le convinzioni religiose, politiche, scientifiche o l'inerzia ci vogliono far guardare. Bisogna fare questo sforzo, bisogna essere mindful, bisogna essere sani. Sta uscendo un nostro libro che ho scritto con Franco Berino, uscirà a febbraio, in cui parliamo di tutte queste cose e questa è una cosa che ho scritto io e mi sono immaginato praticamente noi come un qualcosa che viaggia in questo universo. Il nostro corpo è la nave. Se tu hai una nave scassata con un sacco di problemi strutturali non puoi affrontare un mare in tempesta, ma anche se tu hai una nave bella robusta ma il capitano non è presente, non c'è una mente salda che è capace di andare dove vuoi andare, prima o poi vai a sbattere contro una roccia e anche la nave solida si spacca. Quindi per essere secondo me felice, per essere realizzato bisogna avere una barca, un capitano, un corpo, una mente che devono essere uniti per poter viaggiare e tramite la meditazione e tante altre cose di cui parliamo di questo libro possiamo iniziare a esplorare questo mondo che è fantastico se ci pensate. La vita è bellissima se si sa viaggiare e osservare le cose nella giusta maniera. Però bisogna saper disciplinare il corpo e la mente, imparare a fare queste cose che non sono cose facili. Ultimo concetto di cui voglio parlarvi, poi ho finito veramente, è il discorso della felicità che secondo me dovrebbe essere fondamentalmente l'unica cosa a cui dovremmo dedicare il nostro tempo, non i soldi, non altre cose. Secondo l'antico libro dei mutamenti cinesi la vera felicità può scaturire solo dall'interno, dal nostro profondo io. Sempre il libro dice se una persona è vuota interiormente a tal punto da perdersi nelle esteriorità, la felicità non può che giungere solamente dal di fuori. E questi tipi di gioia sono benvenuti ai molti che cercano diversivi. Coloro che hanno bisogno di diversivi, perché interiormente deboli ed insicuri, troveranno sempre l'occasione di distrarsi. Essi attireranno i piaceri esteriori per la vacuità della loro natura. E ciò è male. Secondo gli antichi medicinesi, per mantenersi sani e felici è necessario un allenamento costante della mente, incentrato sullo sviluppo di qualità come la magnimità, la sensibilità, la consapevolezza, la tolleranza, la compassione e la pace interiore. Questo qua è un monaco, si chiama Matthew Richard, che era uno scienziato francese che ha lasciato tutto, è andato in Tibet a meditare, è andato famosissimo. Secondo lui la felicità è un profondo senso di prosperità che nasce da una mente eccezionalmente sana. Non si tratta di una mera piacevole sensazione, un'emozione fugace o un ostodanimo, ma una condizione ottimale dell'essere. La felicità è anche un modo di interpretare il mondo dal momento che mentre può essere difficile cambiare il mondo, possiamo sempre cambiare il modo in cui guardiamo il mondo. Grazie a tutti.